Allora, oggi, innanzitutto, completiamo l'esercizio che abbiamo iniziato l'altro e ieri. Allora, se vi ricordate, noi abbiamo provato questo tipo di relazione, che è la misura n dimensionale della sfera n dimensionale di centro d'origine e di raggio 1 era uguale a 2 su n per la misura n-2 dimensionale della sfera n-2 dimensionale di centro d'origine e di raggio 1. Per esempio, per 2 m-2, sì. Aspetta un attimo. No, no. Adesso la controlliamo. Allora, per esempio, se n è uguale a 1, allora, se n è uguale a 3, la misura 3 dimensionale di 3, 0, 1 è uguale a 4 terzi pi greco, che è uguale a 2 pi greco terzi per la misura unidimensionale dell'intervallo n-1. Questa relazione vale però niente. Adesso noi sappiamo che la misura unidimensionale di 1, 0, 1 è uguale a 2, la misura unidimensionale di 2, 0, 1 è uguale a pi greco, la misura unidimensionale di 3, 0, 1 è uguale a 4 terzi pi greco, qua la chiusura non è necessaria, ho aperto e chiuso, la misura è sempre la stessa. Però, a questo punto vorremmo ricavare una formula per ogni n. Quindi, se io devo fare la misura in dimensione 4 nella sfera unitaria, quanto verrà? Verrà 2 quarti pi greco per pi greco, quindi viene pi greco quadro, mezzi. Ok? Utilizzando quella formula. Se faccio la misura in dimensione 5 di B5, 0, 1, questo fa 2 quinti pi greco per 4 terzi pi greco, cioè fa 8 pi greco quadro, 15. e possiamo continuare. Allora, quanto fa la misura M dimensionale di PN, 0, 1? Allora, qui abbiamo due scelte. O, forse è preferibile, scriviamo due formule diverse per n pari e n dispari, oppure cerchiamo di scrivere un'unica formula che vada bene sia per n pari che per n dispari, che però risulterà per forza di cose un po' più complicate. Allora, cominciamo con n pari. Allora io, diciamo, se n è uguale a 2k, quindi se n è pari, che cosa avrò? Beh, avrò un, innanzitutto, un pi greco alla k solo. Questo perché? Perché ogni volta che salgo di dimensione 2, c'è un pi greco in più. Poi, avrò anche un 2 alla k, 2 alla k e poi qua ci metto 2k semifattoriale. Vediamo un po' se torna. se semifattoriale è il prodotto n semifattoriale, non è il fattoriale del fattoriale, ma è n per n meno 2, per n meno 4, fino a scendere, poi qua si arriva o a 2 o a 1. Quindi, 2, qua è il caso di n pari, oppure n semifattoriale è uguale, sempre la stessa forma, n per n meno 2, soltanto che l'ultimo fattore sarà 3 oppure 1, a seconda di 6 n più spari. 1, il fattore 1, ce lo potete mettere o non mettere, da n uguale. Quindi, mentre n fattoriale è il prodotto di tutti i numeri da 1 a n, quindi di tutti i numeri a scendere da n fino a 1, n semifattoriale, per definizione, è il prodotto di tutti i numeri a scendere, però di 2 in 2. Allora, vediamo, se k è uguale a 1, qua abbiamo pi greco per 2, fratto 2 semifattoriale, che fa 2, che è 2 per basta, perché sono già arrivati a 2, e quindi viene pi greco. Se faccio k uguale a 2, qua viene pi greco quadro per 4 fratto 8, perché c'è 4 semifattoriale che è 4 per 2. 4 tali è un mezzo, e torno. Naturalmente, quando io passo a k più 1, qua cosa aumenta? C'è un 2k più 2 sotto, e poi aumenta un 2 pi greco sopra, e quindi, siccome n diventa 2k più 2, abbiamo esattamente che la misura 2k più 2 dimensionale è 2 pi greco fratto 2k più 2, e torno. Cioè, questa formula qua, funziona, scrivete per esempio m6 e m8, e vi andrete subito con questo. Nell'altro caso, cioè se n è uguale a 2k più 1, allora abbiamo anche qui, abbiamo un pi greco alla k, poi abbiamo 2k più 1 semifattoriale, e anche qui, qua però probabilmente dovremmo avere 2k più 1. Vediamo un po'. Se k è uguale a 0, io ho 2, e ci sta, per pi greco alla 0, che non c'è, e sotto c'è 1 fattoriale. Se k è uguale a 1, abbiamo 2 alla 2, quindi viene 4, per pi greco, e poi c'è 3 semifattoriali, viene 4 pi greco terzi. se k è uguale a 2, ho 8 pi greco quadro, poi sotto c'è 5 semifattoriali, che è il quindicesimo. in realtà, qui si può, si può semplificare questa formula di sotto, perché questo non è altro che pi greco alla k su k fattoriale. Vediamo un po'. Questo perché? Perché 2k semifattoriale è uguale a 2k per 2k-2, che posso scrivere 2 per k-1 per 2 per k-2 e così via, alla fine arrivo per 2 per 1. I fattori qui sono k, 2 alla k lo metto in evidenza e qua mi rimane k fattoriale. Cioè, ho la relazione che questo è 2 alla k per k fattoriale. Quindi, qua in realtà io posso semplificare. Se lo lascio così assomiglia di più a questa. Se lo semplifico è più semplice a leggere. Ora, vediamo un po' se k è uguale a 1 funziona, se k è uguale a 2 funziona e così via. Ora, cosa mi interessa però sapere di poi naturalmente se la diciamo la sfera invece di essere di raggio 1 fosse stata di raggio r cosa devo raggiungere? Devo raggiungere un r alla 2k qui e un r alla 2k più 1 cioè dovrei raggiungere r elevato alla dimensione dello spazio. Questo è è ovvio ok a qual è il punto? Il punto è che se voi fate tendere k infinito o la dimensione dello spazio infinito che è la stessa cosa qual è il limite di questa quantità o di quella quantità per quello che vi riguarda? Sapete fare il limite per k che tende a infinito? quindi se vado a fare il limite per n che tende a più infinito della misura n dimensionale della sfera di centro origine di raggio r quanto viene? qui è sicuramente più semplice farlo qui avete pi greco per r quadro alla k su k fattoriale ma ogni limite del tipo a alla k su k fattoriale se vi ricordate analisi 1 fa 0 allora questo è un risultato che potrebbe sembrare sorprendente perché questa è una sfera di raggio r r potrebbe anche essere 2 3 10 50 nonostante ciò se la dimensione dello spazio aumenta molto il suo volume n dimensionale tende a 0 siccome il volume pensate all'intervallo n dimensionale pensate al cubo n dimensionale di 0 1 alla n se io prendo 0 1 alla n questo è un intervallo questo è un ipercubo n dimensionale la misura n dimensionale di questo intervallo quindi e il prodotto delle misure di lato è sempre uguale se ne deduce qua addirittura se ci metto meno 1 1 alla n qua mi viene addirittura 2 alla n che tende a più infinito se ne deduce che nessuna sfera fissiamo un raggio diciamo 10 prendiamo una sfera centrata nell'origine quando n cresce succede che questo cubo o anche se preferite quello più piccolo 0 1 alla n non sta più contento alla sfera sembra strano ma è così effettivamente perché chi è la sfera n dimensionale lo facciamo qua dietro la sfera n dimensionale ah ci stava ancora vabbè no avevamo cancellato quello della sfera era stato cancellato la sfera ok allora la sfera n dimensionale è definita con l'insieme degli x che sono in r a n tali che quindi b 0 r tali che x1 quadro più x2 quadro più xn quadro è minore di r quadro allora andiamo a vedere supponiamo che x1 valore assoluto di x1 sia uguale al valore assoluto di x2 sia uguale al valore assoluto di xn andiamo a vedere andiamo a vedere l'insieme degli x appartenenti a b 0 r tali che che hanno tutte le coordinate in valore assoluto uguale questo è uguale all'insieme delle x appartenenti a r n tali che x1 in valore assoluto è uguale è uguale a xn e andando a sostituire lì mi viene n per x1 quadro tanto i quadrati sono tutti uguali essendo i valori assoluti uguali minore di r quadro quindi se preferite questo vuol dire che x1 in valore assoluto è minore di r su radice di n allora vedete che su questa retta qui i punti che intersegano la sfera devono avere tutte le coordinate minore di r su radice di n in particolare se n è grande non ci può stare il punto 1 1 che ha tutte le coordinate uguale a 1 se io ci metto il punto che ha tutte le coordinate uguali a 1 qua mi viene n ed n se è grande è maggiore di r quindi vedete che qua o ci mettevo 0,1 alla n o ci mettevo meno 1,1 alla n comunque per esempio il punto diciamo l'estremo con tutte le coordinate più grandi possibili di questo intervallo è appunto con tutte le coordinate uguali a 1 e chiaramente quel punto qua dentro non ci sta cioè il punto è che la sfera qualunque sfera anche di raggio grande ma se la dimensione è molto grande ha alcune coordinate che sono minori di 1 le coordinate tendono a diventare minori di 1 qualcuna può essere grande ma altre devono essere per forza piccole qua vedete le coordinate in media la media dei quadrati delle coordinate è r su radice di n la media quando n è grande e questa media tende a 0 qualcuna delle coordinate può essere anche molto grande può anche essere dell'ordine di r ma altre devono essere molto piccole siccome il volume si fa facendo il prodotto dei lati almeno per gli intervalli si fa il prodotto le misure dei lati questo significa che diciamo quando andrò a calcolare il volume della sfera è possibile che mi venga un numero piccolo che tende a 0 con la dimensione effettivamente questo l'abbiamo dimostrato non è che diciamo questo ragionamento che ho fatto adesso non prova molto però fa capire che non c'è contraddizione questo è un fatto che in qualche modo ho diciamo questo fatto può anche lasciare il tempo che trova perché diciamo voi magari questioni legate al calcolo delle variazioni le accenerete soltanto per coloro che faranno la specialistica in TLC la laurea magistrale in TLC però diciamo una cosa che però si può osservare da subito è che il rapporto tra il volume della sfera e il volume del più piccolo intervallo con i lati paralleli e gli assi coordinati che la contiene tende a scendere al crescere della dimensione cioè facciamo un esempio in dimensione 1 l'intervallo meno 1 1 e la sfera di centro rigidi di raggio 1 coincidono prendiamoli così quindi il rapporto tra il volume della sfera e il volume dell'intervallo è 1 in questo caso il volume è la lunghezza in dimensione 2 noi abbiamo il cerchio di raggio 1 che ha aria pi greco e abbiamo poi il quadrato di lato 2 in questo caso pi greco su 4 è un po' meno dell'80% quindi questo rapporto è sceso a meno di 0,8 se siamo in dimensione 3 allora io diciamo una sfera e devo prendere il cubo di lato 2 che la contiene perché la sfera è di lato 1 stavolta il rapporto tra i due volumi è 4 terzi pi greco fratto 8 cioè pi greco sesti quindi come vedete è sceso e di parecchio pure è sceso a poco più del 50% man mano che cresce la dimensione questo rapporto per esempio in dimensione 4 qualcosa devo fare devo fare pi greco quadro fratto 2 alla quinta perché c'è già un mezzo poi devo dividere per 2 alla quarta pi greco quadro è circa 10 poco meno di 10 se vado se non mato errato e 2 alla quinta è 32 quindi questo qua è poco intorno al 30% forse poco più del 30% e così via quindi come vedete diciamo il grosso del volume nel caso mano a mano che aumenta la dimensione si va a concentrare in questi diciamo non so che in queste zone che stanno tra la stella e il cubo è chiaro? questo è diciamo comunque risultato da qualche modo evidenziare il minimo ok detto questo dobbiamo fare prima di fare un altro po' di esercizi dobbiamo parlare del teorema di cambiamento di variabile per il frumo allora qui premetto subito che non farò farò solo un pezzetto della dimostrazione un piccolo pezzetto perché l'intera dimostrazione tipicamente mi portava via 4 ore quindi si faceva in due lezioni da due ore diciamo pure raffinando diciamo col tempo la cosa si poteva scendere a un tre ore ma non di meno che non non ne vale la pena almeno non ne vale per quanto riguarda gli aspetti tecnici tenendo conto che siamo ingegneria non stiamo a matematica anche perché poi se la faccio la devo pure chiedere però c'è si faceva anche a ingegneria diciamo prima della riforma si faceva almeno a Salerno si faceva quando ho fatto esame a Salerno la chiedevamo tranquillamente lo chiede tranquillamente chiesa ok allora prima di tutto dobbiamo chiedere che cos'è un diffeomorfismo allora noi abbiamo due aperti a in rn e b in rn poi abbiamo una funzione a una funzione g da a in b invertibile la prima cosa è che g debba essere invertibile drive g si dice diffeomorfismo se o se per definizione sia g che g a meno 1 sono di classe c ovviamente g è di classe c1 su a e g a meno 1 è di classe c1 su p quindi se volete specificare per bene g appartenere a c1 di a e g a meno 1 deve appartenere a c di p questo è un diffeomorfismo allora il teorema allora innanzitutto prima di annunciare il teorema chi è lo jacobiano di g calcolato con un punto x allora g g di x è un vettore di rm sta in b quindi ha n coordinate quindi ha delle coordinate che sono g1 di x g con n di x questo discorso varrebbe anche se il codomino stesso in rm in questo caso le funghi queste qui g1 di x g n di x si chiamano funzioni coordinate della g in quel caso le funzioni coordinate sarebbero m no? se il vettore g di x fosse in rm in questo caso abbiamo che le componenti o funzioni coordinate della g che è una funzione a valori vettoriati sono tante quante la dimensione del codominio e in questo caso sono tante anche quando la dimensione del dominio perché la particolarità è che g è un cambiamento di variabile il cambiamento di variabile non è altro che un'applicazione da rn in rn ok? quindi il numero di dimensioni in partenza la dimensione in partenza in arrivo il numero di variabile in partenza in arrivo è lo stesso allora in questo caso la matrice jacobiana che abbiamo definito in analisi 2 quindi questa è una ripetizione chi è? è la matrice delle derivate parziali la prima riga è il gradiente della prima componente o funzione coordinata l'ultima riga è il gradiente dell'ultima funzione coordinata questo qua è definizione questa è una matrice n per n se le funzioni coordinate se andavamo a finire in r a m le variabili in partenza erano le stesse quindi quello che cambiava è che chi diventava m questa perché avevamo soltanto m righe e qua non ci si può sbagliare perché lo jacobiano per un punto fissato in un punto fissato è una matrice è associata un'applicazione lineare questa applicazione lineare da dove va? da lo spazio che ha un numero di coordinate pari al numero delle colonne perché quando facciamo il prodotto righe per colonne la lunghezza di una riga cioè il numero delle colonne deve essere pari alla lunghezza delle coordinate diciamo al numero di coordinate per cui sto moltiplicando e poi vado a finire quante componenti avrò tante quante sono le righe della matrice quindi se la funzione andasse da rn in rm lo jacobiano pur deve andare da rn in rm e quindi deve avere m righe le colonne quindi non è possibile sbagliarsi e mettere diciamo la trasposta invece del jacobiano non succede però diciamo un controllo da fare sempre o insomma al minimo dubbio è che quello è quello che lo jacobiano come matrice quindi come deve indurre un'applicazione lineare che vada tra gli stessi spazi dell'applicazione di partenza in questo caso problemi non ci sono nel senso che la matrice è quadrata però in questo caso uno si potrebbe appunto sbagliare potrebbe mettere i gradienti in verticale invece che in orizzontale e non si raccogge lì però se pensa al caso in cui n è diverso termine si raccogge subito i gradienti che possono essere messi in orizzontale ok questo lo jacobiano allora una prima una prima osservazione quale può essere questo non mi ricordo se l'abbiamo fatto in analisi due abbiamo fatto lo jacobiano della funzione composta mi pare di no allora quindi e allora lo facciamo questo tra l'altro è pure utile proprio per chiarire tutti questi fatti dimensioni dello spazio io ho una funzione f da a contenuto in rn a valori in rn m poi poi ho g che va da b allora b è contenuto in rm e contiene f di a a valori a valori in rk oppure mn si si facciamo allora ovviamente g supponiamo che a e b siano aperti così non abbiamo problemi tutti i funzi sono interni poi ovviamente per poter fare il prodotto di composizione b deve contenere f a a questo punto possiamo fare la funzione composta g composto f questa funzione è definita su a e ha valori in rk allora io suppongo che f sia differenziabile nel punto x con 0 appartenente ad a e g è differenziabile nel punto f x con 0 appartenente a b allora scrivo queste ipotesi per esteso cosa significa? significa che f di x è uguale a f di x con 0 più lo jacobiano di f calcolato per x con 0 moltiplicato per x meno x con 0 più un resto che chiamiamo sigma x x con 0 ora la la condizione che ci deve essere sul resto la scrivo qua è che il limite per x che tende a x con 0 della norma m dimensionale di sigma x x con 0 m dimensionale fratto x meno x con 0 n questo limite deve fare 0 attenzione che questo sta in rm questo pure sta in rm questo sta in rm e questo per differenza pure deve stare in rm questo sta in rm esattamente perché questa è una matrice m per n e questo è un vettore n per 1 vi ricordo che i vettori li mettiamo verticali questa relazione anche se non l'abbiamo dimostrata esplicitamente a suo tempo in realtà l'abbiamo dimostrata perché se scriviamo una componente della f la f ha m componenti se scriviamo una componente sola questa relazione non dice altro che per esempio la componente j diesima è uguale a fj di x con 0 più il gradiente di fj di x con 0 per x scalare x meno x con 0 più il resto e sappiamo che il resto deve tendere a 0 per la differenziabilità della componente direi che una funzione è differenziabile per definizione significa che tutte le componenti sono differenziabili allora il vettore dei resti siccome tutte le sue componenti tendono a 0 deve tendere al vettore nudo ma tendere al vettore nudo o dire che la norma di questo sulla norma di questo tende a 0 è la stessa cosa quindi la differenziabilità di una funzione a valori vettoriali si scrive così ok se per qualche motivo non è chiaro lo ripeto anzi lo scrivo poi lo cancello perché mi serve sparsi fj di x questo è uguale a fj di x con 0 più il gradiente di fj calcolato in x con 0 scalato x meno x con 0 più sigma j x x con 0 dove il limite per x che tende a x con 0 di sigma j x x con 0 fratto la norma x meno x con 0 in rm è uguale a 0 questo deve valere per ogni j compreso tra 1 ed m questa è la differenziabilità di una funzione componente allora dire che la f è differenziabile vuol dire che tutte le componenti sono differenziabili allora che questo vale per ogni j ma quando vado a scrivere tutto insieme questo diventa il vettore f di x con 0 il vettore di questi prodotti scalati diventa il prodotto matriciale e il vettore dei resti è appunto il vettore che contiene come componenti tutti i resti di ogni singola componente allora dire che tutte le componenti tendono a 0 siccome sono un numero finito equivale a dire che quel vettore tende a vettore nullo o equivale a dire che la norma del vettore di questo vettore fratto questo vettore qua deve tendere a 0 la stessa cosa il vettore tende a vettore nullo significa la sua lunghezza tende a 0 la lunghezza è questa ok quindi questo è la situazione quindi se permette adesso cancello dopo di che dire che g è differenziabile in f di x con 0 questo che vuol dire che g di y è uguale a g di f di x con 0 più lo jacobiano di g calcolato in f di x con 0 che moltiplica y meno f di x con 0 a più tau di y f di x con 0 dove abbiamo che il limite per y che tende a f di x con 0 di tau di y f di x con 0 fratto la norma di y meno f x con 0 allora questa norma è fatta in rm questa norma è fatta in rk questo limite deve fare ok allora qual è l'idea? l'idea è quella di andare a sostituire al posto di y f di x ok allora cominciamo però prima di dire l'idea dobbiamo enunciare il terreno qual è il terreno? qual è la tesi che la funzione g composto f è differenziabile nel punto x con 0 appartenente ad a e lo jacobiano g composto f calcolato in x con 0 è uguale allo jacobiano di g calcolato in f di x con 0 per lo jacobiano di f calcolato in x con 0 quindi questa tesi non si può sbagliare perché è esattamente la regola della catena di analisi la derivata di g in f di x con 0 per la derivata di f calcolata in x con 0 è esattamente la stessa cosa soltanto invece della derivata abbiamo lo jacobiano lo jacobiano non è speciale che lettera è quella a limite a destra dopo la norma di tau qua k perché siamo in dimensione k questo è quello che noi sappiamo sappiamo questo sappiamo questo vogliamo trovare questo o ripeto per l'ennesima volta qui vedete proprio come devono essere gli jacobiani allora lo jacobiano di g è una matrice k per m lo jacobiano di f è una matrice m per n ma queste matrici si possono moltiplicare e mi danno una matrice k per n che è il numero delle colonne di queste uguale al numero delle righe di queste e torna quindi lo jacobiano di una funzione da rn in rm deve essere una matrice m per n quindi vedete che dimensionalmente il discorso torna ok se vogliamo dimostrare questa cosa qual è l'idea? è l'idea come in analisi 1 era quella di sostituire f di x al posto di allora dimostrazione poniamo f di x y uguale a f di x in questa relazione qua che cosa otteniamo? otteniamo g di y uguale g di f di x con z più lo jacobiano di g calcolato in f di x con z che moltiplica f di x meno f di x con z più tau f di x f di x con z ora ci ricordiamo da sopra che questo è uguale a g di f di x con z più lo jacobiano di g calcolato in f di x con z che moltiplica lo jacobiano di f calcolato in x con z più sigma x x con z più tau di f di x f di x con z in merita qua qualora questa relazione non è precisa almeno è vero se f di x è diverso da f di x con zero se f di x è uguale a f di x con zero il resto è zero perché qua c'è f di x con zero f di x con zero qua viene zero e questo deve essere zero quindi questa qua va intesa tau di f di x f di x con zero va intesa e è prolungata a zero se f di x è uguale a f di x con zero cioè la tau qua era definita per il z diverso da f di x con zero invece questa funzione qua la dobbiamo intendere come una funzione continua che quando f di x vale f di x con zero vale zero ok quindi invece di scrivere diciamo io scriverò rho di x f rho di x uguale tau di f di x f di x con zero se f di x è diverso da f di x con zero e zero se f di x è uguale a f di x con zero quindi io posso scrivere che qua invece di scrivere così ci scrivo rho di x ok quindi io cosa posso scrivere posso scrivere uguale g di f di x con zero più y g calcolato in f di x con zero per y f calcolato in x con zero più y g calcolato in f di x con zero che moltiplica sigma di x x con zero più rho di x allora come vedete scusate ci manca x x con zero un po' questo era questo scalato no per x meno x con zero più sigma x con zero più rho di x quindi qua abbiamo ci sta x meno x con zero più y g calcolato in f di x con zero di sigma x con zero più rho di x allora quello che mi interessa adesso è che allora come vedete il tutto è dimostrato questo è il valore della costante di g composto f in x con zero questo è il valore del pezzo lineare con lo jacobiano che è dato esattamente il prodotto degli jacobiani che dicevamo prima il tutto è dimostrato quando se dimostro che il limite per x che tende a x con zero di la norma di y g di f di x con zero per x meno x con zero per scusate sigma di x x con zero questa norma in più rho di x questa norma in rk fratto la norma di x meno x con zero in rn questo tende a zero allora come si fa a dimostrare questo beh basta dimostrare che i due pezzi tendono a zero allora per quanto riguarda il primo pezzo se ho cioè dimostro separatamente che il limite per x che tende a x con zero a di y g di f di x con zero per sigma x x con zero in rn questo è il minore uguale allora il minore uguale di zero certamente perché il rapporto tra due quantità è possibile ora qui abbiamo un prodotto di una matrice per un vettore il prodotto di una matrice per un vettore la norma di questo prodotto matriciale che ci dà un altro vettore si può maggiorare con una costante che dipende dalla matrice questa è una matrice fissa qua non c'è x per la norma di questo vettore basta che lo fate su un prodotto scalato da due vettori è il minore uguale della norma di un vettore per la norma del secondo vettore allora per lo schifazio per allora se lo fate sulla prima riga prima colonna allora ottenete una costante che dipende dal primo vettore per la norma di questo vettore lo fate sulla seconda colonna sommate qui viene una costante la chiamiamo c per la norma minore uguale quindi di c volte il limite per x che tende a x con 0 di la norma di sigma x x con 0 questa norma è fatta in rm tracola norma di x meno x con 0 in rm e questo limite noi sappiamo per ipotesi sta qua che fa 0 per quanto riguarda l'altro l'altro è limite per x che tende a x con 0 della norma di rho di quella che ho chiamato rho di x in k fratto x meno x con 0 in n ma rho di x chi era? rho di x sta scritta mmm sta scritta qua rho di x è tau di questo se vale questo e 0 se f di x è uguale a f di x con 0 allora io posso scrivere che rho di x è uguale a dobbiamo usare un'altra lettera usiamo omega di x per per tau allora io voglio dire questo voglio scrivere questo rho di x fratto la norma di x meno x con 0 n è uguale supponiamo che f di x sia uguale a f di x con 0 allora so che il numeratore fa 0 e quindi uguale a 0 adesso se invece f di x è diverso da f di x con 0 questo cosa mi viene mi viene tau di f di x f di x f di x con 0 in norma no senza la norma la norma ci viene dopo fratto posso scrivere norma di f di x meno f di x con 0 m qui scrivo norma di f di x meno f di x con 0 m fratto norma di x meno x con 0 in rn ok adesso io che cosa so quando x tende a x con 0 f di x tende anche a f di x con 0 oh questo naturalmente questa posizione la potevo fare quando f di x era diverso da f di x in maniera tale che questo rapporto si fa ma comunque quando x tende a x con 0 anche f di x tende a f di x con 0 quindi questo qui effettivamente tende a vettore nulla per quale motivo tende a vettore nulla perché noi sapevamo che tau di y f di x con 0 fratto y meno f di x con 0 tende a vettore nulla e quindi sostituendo f di x tende anche a vettore nulla adesso l'ultima cosa da dimostrare è che questa quantità si mantiene limitata ma questa quantità non è altro che questo più questo allora questo qui allora questo diviso questa norma tende al vettore nulla quindi se lo prendiamo in norma tende a 0 questo quando lo prendiamo in norma facciamo lo stesso discorso di prima maggioriamo con una costante per la norma di x con 0 quando andiamo a dividere per la norma di x con 0 mi rimane solo la costante quindi lo posso maggiorare con quella costante più l'altra norma tende a 0 in norma la posso maggiorare con 1 quindi questo qua lo posso maggiorare con una nuova costante c' più 1 questo tende a 0 quindi quando x tende a x con 0 tutta questa quantità tende al vettore nulla se la prendiamo in numero tende a 0 qui c'è sempre il solito discorso delicato come in analisi 1 di non andare a dividere per 0 quindi di separare il discorso tra gli f di x che sono diversi da f di x con 0 e gli f di x che sono uguali a f di x con 0 ma per il resto il teorema è abbastanza semplice quindi adesso un altro 5 minuti e poi facciamo una piccola pausa quindi qual è la situazione? la situazione è molto semplice quando io vado a fare il prodotto di composizione di funzioni tra spazi vettoriali tipo rn quindi funzioni da rn in rm poi c'è la g e va da rm in rk semplicemente se f e g sono differenziabili anche g composto f è differenziabile e cosa posso dire quindi esiste la matrice jacobiana del g composto f questo vale punto per punto se g è differenziabile in f di x con 0 ed f è differenziabile in x con 0 scusate se g è differenziabile in f di x con 0 se f è differenziabile in x con 0 allora g composto f è differenziabile in x con 0 cosa posso dire della matrice jacobiana lo jacobiano del prodotto di composizione è il prodotto matriciale degli jacobiani con la regola della catena quindi abbiamo esattamente la stessa regola della catena di analisi 1 che invece di applicarsi alle derivate si applica agli jacobiani ripeto la maggior difficoltà dovuta al fatto che sia un prodotto matriciale non dovrebbe più spaventare nessuno abbiamo fatto analisi 1 analisi 2 siamo analisi 3 e il discorso anzi ci serve per controllare come sono fatti gli jacobiani perché affinché gli jacobiani siano moltiplicabili lo jacobiano di g deve essere k per m lo jacobiano di f deve essere m per m e lo jacobiano di g composto f deve essere k per m chiaro? lo jacobiano è la matrice delle derivate prime le derivate prime sono per esempio nel caso di jacobiano di f è m per n perché? perché ci sono m funzioni coordinate cioè m componenti della f e n variabili ogni funzione coordinata la devo derivare rispetto alle n variabili e il gradiente lo devo mettere per lì è chiaro? quindi questa è la situazione in particolare adesso prima di andare a enunciare e ripeto dimostrare solo parzialmente lo dimostreremo solo per le applicazioni lineari il teorema di cambiamento di variabili degli integrali multipli vogliamo fare un'osservazione un cambiamento di variabili è un diffeomorfismo tra due aperti questo cosa ci dice? un diffeomorfismo vuol dire che g composto g a meno 1 è l'identità o g a meno 1 composto g è l'identità tutte e due sono l'identità su R quindi quando andiamo supponete di mettere qua g a meno 1 se io faccio ho qua g e qua g a meno 1 insomma va bene lo jacobiano di g calcolato in g a meno 1 di x con 0 per lo jacobiano di g a meno 1 calcolato in x con 0 deve fare 1 deve fare la matrice dei quindi il prodotto dei determinati di jacobiani per il teorema di Binet deve fare 1 quindi che significa? che queste due matrici non possono avere determinante nullo quindi quando abbiamo un diffeomorfismo lo jacobiano di un diffeomorfismo non è mai singolare è chiaro? perché altrimenti il determinante se fosse singolare il determinante farebbe 0 ma allora come fa quando vado ad applicare g a meno 1 il prodotto dei due jacobiani a fare la matrice identica se una matrice ha determinante nullo il prodotto delle due matrici ha determinante nullo e certamente non può fare 1 chiaro? va bene adesso questo lo ripeteremo all'inizio della prossima parte ma comunque ci fermiamo qua per 5 minuti grazie a tutti Grazie.